Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video intitolato Ballata del Cavaliere Arrante In questo video voglio farvi ascoltare la mia seconda Ibanez, l'altra, quella media diciamo quella leggermente meno bella di quella che vi ho fatto vedere nel precedente video ovvero sto parlando di questa in questo video suonerò un brano, almeno una solo di un brano di Eric Clapton ma direi ricordatevi di cliccare like al video, iscrivervi al canale, pubblicizzare il canale cliccare anche sulla campanellina e ora andiamo al video, buona visione Grazie a tutti Ciao ragazzi, come vi dicevo questa è la mia seconda Ibanez con due simboli che gli ho attaccato io simbolo di feudalesimo e libertà e simbolo la croce templare ve l'ho appena fatto ascoltare il pezzo finale l'ultimo piccolo assolino è copiato è un pezzo di un brano di Eric Clapton vado a vedere il titolo Wonderful Tonight di Eric Clapton solitamente quel pezzettino, quella solo sarebbe da fare con una Stratocaster o comunque una chitarra Fender con un suono simile a una Stratocaster perché sono le chitarre usate da Eric Clapton però volevo farvele ascoltare con la Ibanez Ciao ragazzi